Si consolida anche a Parma Italia Unica, il movimento fondato lo scorso gennaio a livello nazionale dal manager e banchiere Corrado Passera, ministro per lo sviluppo economico durante il governo Monti e dunque tra il 2011 e il 2013. Lo stesso Passera ha tra l'altro annunciato recentemente la sua candidatura a sindaco di Milano in vista delle elezioni del 2016. Italia Unica Parma ha presentato ufficialmente stamane il proprio organigramma provinciale e alcuni progetti per il futuro del territorio. Oggi presentiamo il coordinamento provinciale d'Italia Unica, siamo fra i primi in assoluto in ambito nazionale a presentare un coordinamento provinciale, ne siamo fieri, siamo nati il 31 gennaio 2015, abbiamo aperto le prime porte quindi nelle nostre sedi territoriali a Parma il 19 di febbraio e oggi presentiamo il nostro coordinamento provinciale. Come coordinamento provinciale noi comincieremo a operare anche ovviamente nel territorio, quindi nella provincia di Parma dove cercheremo in assoluto di essere pronti per le amministrative del 2016. Siamo un partito nuovo, un partito giovane, fatto sta che un'indicazione molto importante ad oggi è stata quella che quello che è il nostro vice coordinatore Paolo Peschiera oggi si è proprio dimesso, visto che ha ottenuto questo incarico, si è dimesso dai CCV giustamente perché noi cerchiamo di fare una politica diversa completamente da quelli che possono essere altri partiti.